Ma che stai aspettando? Stai aspettando perché sto guardando? Ma qua c'hanno di tutto Altro che panificio, qua c'è di tutto Devo parlare con il titolare Sì Questa famiglia no Perché hanno idee discordanti Con il titolare Ma il titolare vedi che è pericoloso Allora, le volevo dire Io ora mi porto un po' di cose Perché le devo assaggiare Poi stasera torno per le pizze Che le fanno le pizze a taglio Che le assaggiamo Qua c'hanno di pagare Anche quadrate le fanno L'importanza alla forma Vabbè ci prendiamo un po' di cose Mi porto un po' di cose Nella fiducia perché sono onesto Io me li porto perché mi sembra giusto Che fanno aperitivo Che pagava stasera Stasera Che si chiama stasera No poi È un ossoduro qua ragazzi È un simpaticone È un ossoduro Allora Lei si chiama stasera E io pago nel pomeriggio Perché io mi chiamo nel pomeriggio Capito? Vabbè ma ce la dia un po' di fiducia Ce la dia Noi siamo persone oneste Noi ragazzi c'è grazia Grazie ma poi grazie Che sto prendendo Ma guarda Ma guarda Ma pasticcini Ma una busta per favore Qua fanno anche Però si rassi una mossa Si rassi una busta No ma non mi manca una C'è ragazzi E qua ci volete Ragazzi qua c'è di tutto Signora giro io Non vuoi girare tu là Ma i clienti che pagano Prima devo spiegare loro I clienti che pagano C'è certo Vabbè ragazzi Conte qua Arraffa un po' con tutto Ci vediamo stasera Non lo so a che ora Rive Ma no Il tocino ce lo mangiamo Guardate no Ma poi devi pagare Allora non lo so Se gli vuole segnare Ci vediamo stasera Ci vediamo stasera Sempre qua Al panificio San Nicolò Ci vediamo dopo Qua fanno pizza Sì Qua è un po' panificio Poi fanno di tutto Vabbè possiamo andare Ma che non hai pagato niente No se li hai segnati Vabbè Va bene ragazzi A dopo Stasera